Ha scelto questa mappa proprio per la vicinanza delle tre basi Comunque sostanzialmente Pancake ha giocato un game molto strano Ha fatto Ling Ban e Muta contro un esercito di Mono MMM Ed ha vinto Comunque si parte vedetta abbandonata tie Pancake, Ace of Spades contro LOL Che succede? Che succede? Che succede? Che succede? Probabilmente avrà stato dato il go da parte di... Che succede? Ok, rivengo invitato I lobby probabilmente avevano sbagliato un mappa O non era... non è arrivato il go da parte di Chaki Si parte immediatamente GLHF tra i due Comunque Gli odo io da parte loro Comunque Pancake del team Ace of Spades contro Chaki Del team Seek Control Due giocatori Master Terran e un altro invece Zerg Ma andiamo subito a presentare in questa mappa che è vedetta abbandonata LE Mappa di ladder Quindi sostanzialmente molto giocata da entrambi Comunque nell'angolo in alto a destra troviamo Pancake, Zerg del team Ace of Spades E appunto Master Top Master O Mid Master Non ricordo ora la classifica diciamo Comunque Nell'altro angolo troviamo un altro giocatore Master Anch'esso probabilmente Mid Mr.Chak Del team Seek Control Quindi Che prima appunto ha vinto In modo egregio Una partita Diciamo Subito inclinata Verso il suo gioco Diciamo che sostanzialmente dopo la migrata iniziale Stata più o meno tranquilla per il Terran Che ha condotto uno stile di gioco molto aggressivo Con drop Da tutte le parti Ed ha portato a casa anche abbastanza droni Ma sostanzialmente stanno molto bravo a ricercare Il rintanamento rapido per le mine Gli ha permesso di rintanarle molto velocemente E così ha vinto il game Grazie al momento anche Vabbè Marina Comunque Caserma 12 E raffineria Anch'essa 12 Per Chaki Che sostanzialmente andrà a Bio Come a prima O probabilmente farà un gioco di mech Vedremo Intanto viene perso a prima L'aceri della pool da parte di Pancake Mi ha preso la laceri prima della pool da parte di Pancake Quindi Dall'aceri first piuttosto che dalla pool Viene fullato il gas Da ben tre droni Intanto continua a produrre Reaper Il giocatore Terran Che a questo punto andrà a fare anche qualche danno Vedremo un po' La Queen in produzione Non ci mette molto a spawnare la Queen Ben 50 secondi Ma comunque Il tempo che River arriva Fa qualche kill Insomma un po' di miro Si riesce a preservare tutto Comunque giù anche un'altra base Quindi a 20 Chuck Butta giù una base E Sostanzialmente andrà a fare una Si Fabrica Appunto Come a prima Vediamo un po' Escono i primi due link Non credo avrà problemi Pancake a difendersi Dove ha fatto la Queen però? Non la trovo Ah Ok Una da questa Una da quest'altra Ok Perfetto Comunque Chuck Con questo Reaper Ha scautato sostanzialmente Tutte quante le intenzioni Dello Zerg Che si appresta Ad andare Di macro Probabilmente No No Invece no Perché probabilmente Farà un Seven Roche Rush O qualcosa di simile Perché Ha fatto Sia il rintanamento Sia la colonia di Blatte Quindi Un push Importante Da parte del Dello Zerg Intanto rischiamo di perdere un Reaper Mamma mia Lo migra veramente bene Gran micro Da parte di Chucky Che a questo punto però Avrà visto Spero per lui La colonia di Blatte Vediamo un po' No non è così Attenzione Attenzione Viene buttato giù Un bunker Stessa start di prima Che però Probabilmente No Bella mossa Perché Scauta il carro Cioè Fabbrica Un modo tecnologico Quindi farà un carro D'assedio Probabilmente Avrà capito Che la build È a rocce Non so Sinceramente come abbia fatto Ma comunque Grandissimo Game Sense Arrivano Le Blatte Le prime Blatte Da parte di Pancake Ne sta producendo Ben 8 Anzi Oddio 7 sono già Prodotte Mentre altre Stanno in produzione Comunque Avanza Avanza Fiero Verso la base avversaria Produrrà Probabilmente Un tank Che verrà Assiggiato Sull'altura Pancake Che si muove In avanti Molto aggressivo Molto cattivo Proverà A far danni Vedremo un po' Se Riuscirà a sfondare Questo bunker Che Sostanzialmente È difeso Da solamente Due marine Vediamo un po' Intanto Il range Del tank Attenzione Non è perfetto Quindi Oh Aia 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 Deve assolutamente Difendere Il bunker Che però Probabilmente Verrà over riparato Difatti è così C'è il rintanamento Da parte di Pancake Ottima mossa Che salva tutte quante Le Blatte Grandissimo Pancake Che a questo punto Potrebbe Veramente avere Il game in mano Vediamo un po' Oddio Oddio Il tank viene Siggiato sulla rampa Ottima mossa Attenzione Ottima mossa Servirebbe una scan C'è là Ehm C'è là Chaki Ma sostanzialmente Sembra resistere Il giocatore Terran Anche perché Questo tank Siggiato in una maniera Perfetta Se mi è consentito Dire Veramente Bravissimo Prima la Siggiato sull'altura Perché pensava Ad una Rass Di qualche Di qualche strano genere Poi Quando ha visto Le rocce Subito Ha preso il tank L'ha tolto La Sige L'ha messo Sulla rampa Per contrastare Queste Roche Che ora sono Rintanali Qui sotto LOL Comunque Prende anche Una terza base Pancake Che a questo punto Sembra essere Comunque In un discreto Vantaggio di macro Ma anche se Il suo avversario Ha fatto Una difesa Splendida Devo dire Non ha perso Non ha perso Nulla Forse qualche SCV Ma si Si rifà Subito L'SCV Attenzione Perché un po' Di SCV Sciopero Deve portarli Assolutamente A lavorare Non si raccorge Però ecco In questo momento Mi sente Mi sente e Li trasporta Nella linea Mineraria Comunque per il momento Sembra andare ancora Come a prima Di Bio Il giocatore Terran Che a questo punto Si muove In avanti Con queste Elyon Devo dire Però queste Blatter Intanate Devono essere tolte Andiamo un po' Perde le Elyon Mr. Chucky No oddio Ne perde solamente una Erano lì sotto Da parecchio tempo Bella mossa Quella del rintanamento Comunque start Molto sicura Da parte di Chucky Che veramente Con questo bunker Counter ridotto Tranne che Il Binding Boost Ma comunque Lì si Scauda abbastanza facilmente Comunque Vediamo un po' La tech Binding In produzione Cioè veramente Nidl Binding In produzione Da parte di Van Cake Quindi sostanzialmente Build precedente Tranne che Con le Roach Bah Secondo me Contro la La Bio Bisogna fare Ling Ban Infestor A mio avviso Anche se Infestor Sono stati Abbastanza Depotenziati Comunque Viene persa Una terza Da parte di Pancake Ma attenzione Si trova Questo sorvegliante Che gli Rompe un po' Le scatole Quindi lo va a uccidere Anche piuttosto Rapidamente Sti impaccando Di prepotenza Questi Marine Quindi Posizionerà breve Questa base E sostanzialmente I tank Ora faranno Veramente Mattanza Delle blatte Pancake Pancake A questo punto Però si trova In svantaggio Di macro Il giocatore Zerg Che deve assolutamente Prendere una terza Mette in pausa Mette in pausa Chaki Attenzione Perché Se lag Deve uscire Ok Ok Si riparte Stavo dicendo Che era il svantaggio Di macro Pancake Che a questo punto Insomma Deve prendere Assolutamente Una quarta base Perché Ha pari basi Con un Terran Ma questo Mr.Chuck Veramente Non è male Anzi Un po' forte Comunque Molto probabilmente Non si sfonda Questa armata Di tank E Marine Posizionata Da Mr.Chuck Che ora Guardate come fa Impazzire il proprio Avversario Con questo drop Sull'altura Veramente buono Attenzione Vengono sorroundati Perde un binding Ottima La micro Ancora di Chuck Che proverà A fare Qualche giocata strana Vediamo un po' No se ne va Se ne va Anche perché Ha troppa poca roba Dentro quelle medivac E qui ci sono Tantissimi Linghebiling Giù anche le muta Quindi esattamente La build precedente Quindi si è dimenticato Le rocce Ma Non so Non so Oddio ora Non ci sono le mine Quindi Porrebbe essere Forse la scelta giusta Ma comunque Ci sono i tank Un centro di comando Un comando orbitale Vediamo un po' Sostanzialmente La partita Sembra essere Su binari Molto favorevoli Al terra Andato che Ha pari basi Con Ora Oddio Ora no Perché ne ha messa un'altra Comunque Attenzione all'ingaggio Attenzione all'ingaggio Lo split è ottimo Perde solamente una Una torretta Ma comunque si difende Greggiamente Devo dire Non ha perso quasi niente Ha perso giusto Quei tank Ma i danni più ingenti Li ha ricevuti Pancake Che a questo punto Veramente Deve assolutamente Far qualcosa Per risollevare Le sorti di questo match Che sembrano essere In grande Vantaggio Per il giocatore di terra Che ora si muove in avanti Addirittura Col 2-2 Contro l'1-1 Eh Attenzione perché Il vantaggio di upgrade Si farà sentire Si muove In avanti Si muove in avanti Chaki Chaki è aggressivissimo Chaki è molto aggressivo Split a marine Vedremo un po' Un Un Drappello di marine Lo carica dentro le medivac E Dentro una medivac E probabilmente Andrà a droppare In quarta Vediamo un po' Lascia una mina Di default Molto Buona questa mossa Perché comunque Se arriva Se arrivano i Ling Vengono One shot Da questa mina Veramente Ottimo posizionamento Comunque praticamente Maxato Chaki Che però Attenzione perché Vediamo un po' Se riuscirà a bloccare Questo Questo drop Sembra che Comunque attenzione Però l'ingaggio è sulla linea Principale Attenzione Ottimo 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 Il posizionamento Il posizionamento Da parte Dello Zerg Che uccide le mine Le mine sono Quelli che fanno Più danni Assolutamente Quindi deve Focusarle Attacca Con i Marine Ottimo Split Da parte Del giocatore Terran Che a questo punto Sembra essere In un discreto Vantaggio Di posizione Si è piazzato Probabilmente Davanti alla base Sta buttando Giù la quarta Va giù la quarta A base Di Pancake Ed è maxato Il giocatore Terran Attenzione Ottima la mossa Da parte di Mister Chuck Corre e gli butta giù Anche La Aia Anche la terza Base giù Eh No Forse no Perché comunque La riesce a salvare No Una macro aceri Viene distrutta Ma la terza Rimane in piedi Almeno quello Per il giocatore Terran Che a questo Per il giocatore Zerg A questo punto Si ritira Intanto lo Zerg Si muove Avanti Fiero Ma guardate La quantità Di mine La quantità Di mine Impressionante Da parte di Chucky Attenzione Le mine Le mine Le mine Le mine Mamma mia Incredibile Incredibile Per il momento Una quantità Di roba Incredibile Da parte di Pancake Che sta Arrassando Il proprio Avversario Molto Pesantemente Deve salvare Deve salvare Questa base Da queste Da queste Mutalische Ce la farà E probabilmente A questo punto Ha un vantaggio Di macro Importante Dato che È a Più basi Dello Zerg Ottima 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 Mossa Da parte Di Chucky Che ora Va a posizionare Anche Due mine Quindi Veramente Insomma Buone Buona Mossa Da parte Di questo Terran Che sempre Più Mi sta Sbalordendo Un giocatore Veramente Bravo Devo fare I miei Complimenti Ma anche Pancake Sta comunque Reagendo Al proprio Avversario Con una Massa Ling In forme Veramente Tre pagine Di ling Ma quanti Sono Vengono Praticamente Tutti Morfati In banning No Non proprio Tutti Ma comunque Una buona Dozzina Si muove In avanti Però Pancake E si Mister Chuck Subito Scautato Da Pancake Ora Finalmente Fa uscire Le mucche Ma Dal VP